Oh gran santo, oh prevedere di quest'isola, gran vento. Non è bella quella di trasportare San Giovanni Giuseppe tra i suoi concittadini, no? In questa bella giornata settembrina, bello ricordare un cittadino isolano. E certamente, chiedere la sua intercessione e soprattutto permettere di pensare anche alla sua bella vita che ha svolto per il Signore. Si benedica e lascia i frutti ancora oggi. Certamente, certamente. A lui alla fine pregava il gloria al Padre proprio per tutti i benefici che Dio gli aveva concesso. Grazie a tutti. Il nostro caro San Giovanni Giuseppe ci dice proprio questo, che essere santi, la chiamata alla santità è per tutti, Per noi essere santi significa proprio viverla, questa parola. Significa accoglierla nella nostra vita e significa testimoniarla con tutti i nostri pensieri, con tutte le nostre azioni e con tutti i nostri sentimenti. E' quello che credo ci chiede anche Gesù nel Vangelo di questa domenica, nel Vangelo che abbiamo ascoltato, il Vangelo di Marco, dove mette in guardia, ecco, nelle sue parole, ecco, mette in guardia da una fede che diventa soltanto una osservanza di norme esteriori. Amiamo il Signore, vogliamo vivere come Maria, accogliendo la parola di Dio nella nostra vita, vogliamo vivere il cammino della santità come lo ha vissuto e come ne è testimone esempio il nostro fratello San Giovanni Giuseppe. Ecco, allora siamo chiamati ad amare Dio e il prossimo, così come il Signore ci chiede, perché amare il prossimo significa farlo entrare nella nostra vita, vuol dire considerarlo puro, vuol dire accoglierlo nella mia esistenza. Grazie a tutti.